erano in quel paese le stalle e la casa di amico il feroce signore dei bebrici al quale diede la vita a melia una ninfa bitinia unitasi al dio posidone loro progenitore era il più arrogante degli uomini e perfino per i suoi ospiti aveva stabilito una legge indegna nessuno poteva andarsene prima ad essere messo alla prova nel pugilato contro di lui e così uccise molti vicini e anche allora venne presso alla nave ma non degnò di chiedere nella sua alterigia chi fossero né il motivo del viaggio ma subito in mezzo a tutti disse queste parole sentite navigatori ciò che dovete sapere è legge che mai nessuno straniero una volta giunto tra i bebrici possa andarsene prima di aver levato contro le mie le sue mani perciò scegliete tra voi un uomo il più forte e fatelo combattere con me qui subito al pugilato se invece traspurerete e calpesterete i miei editti una dura necessità dolorosa cadrà su di voi così disse pieno d'orgoglio e all'udirlo riprese una rabbia selvaggia e più di tutti polluce fu offeso da quelle minacce si levò subito a nome dei suoi compagni e rispose chiunque tu sia trattieni la tua crudele violenza e a noi non mostrarla obbediremo alle tue leggi così come tu dici io stesso di mia volontà mi offro per affrontarti così disse apertamente e amico lo fissò ruoteando gli occhi come il leone colpito dall'asta attorno a cui si affaticano sui monti gli uomini ed anche accerchiato da una gran folla non se ne cura ma vede un uomo soltanto quello che l'ha per primo ferito e non l'ha ucciso il figlio di tindaro depose il ricco mantello morbido quello che un giorno una donna di lemno gli diede in dono ospitale amico butta per terra il manto scuro doppio fermato da fibbie e il bastone ruvido d'olivo montano che usava portare trovarono subito un luogo adatto lì accanto e fecero sedere sulla sabbia divisi i loro compagni nell'aspetto e nella struttura erano in tutto diversi l'uno sembrava un parto mostruoso del tremendo tifeo o della terra medesima quelli che generò nella collera contro zeus l'altro il tindaride assomigliava all'astro che ha i raggi più belli quando si leva al crepuscolo e così splendido era l'eroe figlio di zeus con le guance fiorite di leggera peluria e gli occhi splendenti ma la forza è il vigore di una belva muoveva le braccia provando se erano ancora agili come in passato e non le avevano appesantite né le fatiche né il remo non così amico restava in disparte in silenzio fissando gli occhi sopra di lui e il cuore fremeva dal desiderio di trargli il sangue dal petto nel mezzo un servo di amico ricoreo pose ai piedi di ognuno due cesti di cuoio aspri asciutti induriti e amico si rivolse al rivale con parole superbe ti darò quelli che vuoi senza sorteggio perché tu dopo non abbia a rimproverarmelo mettili attorno alle mani presto saprai e potrai dire anche ad altri quanto io valgo sia nel tagliare le dure pelli di bove sia nel coprire di sangue le guance degli uomini così disse e polluce non volle ribattere ai suoi insulti con un dolce sorriso prese senz'altro quei cesti che gli giocevano ai piedi e tosto gli vennero accanto castore e il figlio di biante il grande talao e velocemente glieli allacciarono e aggiunsero molte parole di esortazione a combattere lo stesso fecero all'altro areto e ornito e non sapevano stolti di farlo per l'ultima volta secondo un crudele destino quando furono pronti quei cesti dall'una parte e dall'altra alzarono le mani pesanti a coprire la faccia e si scagliarono furiosamente l'uno sull'altro era il re dei bebrici come il flutto che si solleva violento contro una rapida nave ed esso evita appena grazie alla saggezza del suo esperto pilota che l'onda impetuosa penetri dentro i suoi fianchi così incalzava il tindaride cercando di fargli paura e non gli lasciava trarre respiro ma quello sempre schivava i suoi assalti e grazie all'intelligenza restava in colume sempre presto ebbe capito qual era l'arte selvaggia di amico dove era invincibile e dove esposto alla sconfitta allora si fermò risoluto e prese a ribattere colpo su colpo come battono i falegnami coi martelli le caviglie a guzze conficcandole a forza a tenere insieme le tavole della nave e i colpi rimbombano senza tregua l'uno sull'altro così da ambo le parti risuonavano guance e macelle e si levava un digrignare infinito di incidenti l'uno di fronte all'altro non cessavano mai di colpirsi fin quando entrambi furono vinti dall'affanno angoscioso si scostarono un poco e asciugarono l'abbondante sudore dalla fronte ansimando respiri sfiniti e poi di nuovo entrambi si scagliarono l'uno sull'altro come due tori che furibondi si scontrano per una giovenca al pascolo allora amico si alzò sulle punte dei piedi tese il corpo come fa il macellaio per uccidere il bove e calò su polluce la mano pesante ma quello inclinò il capo e sostenne l'assalto ricevendo appena alla spalla il colpo poi fattosi sotto e muovendosi cauto lo colpì forte sopra l'orecchio e gli spezzò l'osso dentro cadde per il dolore in ginocchio i mini gettarono un grido mentre in un attimo solo la vita lasciava quel corpo i bebrici non furono indifferenti alla morte del loro sovrano tutti insieme brandirono le dure mazze e le lance e si passero dalle guaine le spade affilate per primo castore colpì un uomo che l'assaltava alla testa e divisa in due pendeva di qua e di là dalle spalle lo stesso polluce uccise l'enorme itimoneo e anche mimante e dall'ultimo un calcio nel petto col piede veloce e lo rovesciò nella polvere l'altro che gli era addosso lo colse col destro al di sopra del sopracciglio sinistro e gli strappò la palpebra lasciando nuda la vista intanto oreite un suddito orgoglioso d'amico colpì nel ventre talao figlio di biante ma non l'uccise il bronzo scalfì soltanto la pelle sotto la cinta senza toccare le viscere areto alla stessa maniera si slanciò contro il figlio di eurito il prode ifito e lo colpì con la mazza ma quello non era ancora votato al destino funesto presto piuttosto lui stesso doveva essere ucciso sotto la spada di clizio il figlio di licurgo l'arditissimo anceo si scagliò allora tra i bebrici pieno di furia brandiva la grande scura e nella sinistra teneva la pelle nera dell'orsa e insieme a lui si slanciarono i figli di eaco e si mosse anche il valoroso ciasone come quando in una giornata d'inverno i rupi grigi entrati dentro la stalla all'insaputa dei cani sagaci e degli stessi pastori spargono il terrore tra le innumerevoli pecore e guardandone molte insieme cercano quale assaltare per prima e portar via e le pecore cercano scampo cadendo l'una sull'altra così spargevano il terrore tra gli orgogliosi bebrici e come i pastori o gli apicultori stanano un vasto sciame d'api col fumo dentro una roccia e quelle si ammassano tutte insieme nell'alveare e si agitano con un fitto ronzio ma poi soffocate dal fumo denso volano fuori lontano così i bebrici non resistettero a lungo ma si dispersero per il loro paese annunciando la morte di amico stolti non sapevano che un'altra imprevista sventura era loro vicina in quel giorno i campi e i villaggi erano saccheggiati in assenza del loro sovrano dalla lancia nemica di lico e dal popolo dei mariandini che sempre contendevano loro la regione ricca di ferro pure gli eroi saccheggiavano stalle e capanne e andavano in giro a sgozzare innumerevoli bestie e tra loro qualcuno parlava in tal modo pensate cosa avrebbero fatto questi vigliacchi se un dio conduceva qui anche eracle credo che non ci sarebbe stata neanche la gara di pugilato in sua presenza ma quando amico venne a dirci dei suoi decreti subito un colpo di clava gli avrebbe fatto scordare decreti e superbia e l'abbiamo lasciato a terra e siamo salpati senza darcene cura ma ognuno di noi conoscerà in sua assenza la funesta sventura così diceva ma tutto si era compiuto secondo il volere di zeus rimasero là quella notte e curarono i loro feriti fecero sacrifici agli dèi e prepararono un grande pranzo nessuno fu preso dal sonno accanto al cratere e alle vittime ardenti e con le teste bionde cinte dall'oro l'alloro che era sul lido e al quale avevano anche legato le cime di argo cantavano un inno al suono della cetra di orfeo armoniosamente e al loro canto si rallegrava la riva senza venti celebravano il figlio di zeus l'eroe di terapne ma quando il sole sorgendo dall'orizzonte splendette sui monti bagnati dalla rugiada e diede la sveglia ai pastori allora sciolsero dai piedi dell'auro le gomene e imbarcarono le loro prede quante occorreva portarne e si diressero spinti dal vento al bosforo ricco di vortici qui l'onda simile a una montagna scoscesa si leva di fronte ai naviganti e alta come una nuvola sembra piombare su loro e penseresti di non poter sfuggire al tremendo destino perché proprio in mezzo alla nave incombe minacciosa ma tuttavia si distende se trova un esperto pilota e così anche essi passarono grazie all'abile tifi illesi per quanto atterriti il giorno seguente gettarono le gomene alla terra tinia di fronte su quella riva abitava fineo figlio di agenore che fra tutti gli uomini subì le pene più atroci per l'arte profetica che gli donò un tempo il figlio di leto non ebbe alcun ritegno nemmeno a rivelare agli uomini precisamente il sacro pensiero del figlio di crono e perciò il dio gli assegnò una vecchiaia lunghissima e gli tolse la dolce luce degli occhi e non gli permise di gustare i molti cibi che gli portavano a casa ai vicini chiedendogli una profezia perché piombando attraverso le nuvole le arpie che gli strappavano sempre dalle mani e dalla bocca coi loro rostri e talvolta non gli lasciavano nulla dall'altra pochissimo perché continuasse a vivere e a soffrire però vi spargevano un odore schifoso e nessuno poteva non solo portarlo alla bocca ma sopportarlo da lontano tale effettore e salavano i resti del pranzo ma quando sentì la voce il frostuono di un gruppo di uomini capì che erano giunti quelli che gli avrebbero dato secondo i vaticini di Zeus la gioia del cibo si alzò dal suo letto come un fantasma nel sogno appoggiato al bastone coi piedi contratti giunse fino alla porta tastando nei muri e camminando le membra tremavano di fragilità e di vecchiaia il corpo era secco e duro di sudiciume e la pelle teneva insieme soltanto le ossa uscito di casa piegò le ginocchia sfinite e sedette sulla soglia dell'atrio l'avvolse una scura vertigine e gli parve che la terra girasse attorno a lui dal profondo senza parole cadde in un torpore spossato come lo videro gli eroi gli si raccolsero intorno stupiti ed egli traendo a fatica il respiro dal profondo del petto disse parole profetiche ascoltatemi voi che siete i più prodi di tutta la grecia se siete davvero quelli che per un duro comando regale sulla nave argo giasone porta al vello d'oro ma certo lo siete ancora la mia mente conosce tutte le cose per la scienza divina ti ringrazio signore figlio di leto pure in mezzo ai dolorosi travagli in nome di zeus protettore dei supplici e punitore implacabile dei malvagi in nome di febo e in nome di era stessa che più di tutti gli dèi a cura del vostro viaggio vi supplico datemi aiuto salvate dalla rovina un uomo infelice e non partite lasciandomi abbandonato così come sono non soltanto le rinni ma calpestato gli occhi e trascinò la mia vecchiaia verso l'irraggiungibile fine ma a questi mali si aggiunge un altro male più amaro le arpie mi rapiscono il cibo di bocca piombando da non so dove da qualche nido funesto e non ho modo di difendermi più facilmente quando ho voglia di cibo potrei celarlo a me stesso che a quelle tanto veloci attraversano l'aria se talvolta per caso mi lascialo un poco di cibo manda un odore tremendo che non si può sopportare nessuno degli uomini potrebbe mai avvicinarsi neppure un momento neppure se avesse il cuore di acciaio ma la necessità mi costringe amara insaziabile a restare e non solo a mettere nel mio maledetto ventre quel cibo la profezia divina dice che le cacceranno i figli di borea e non mi sono estranei i miei salvatori se è vero che io sono fineo un tempo famoso tra gli uomini per la ricchezza e per l'arte profetica e mio padre fu a genore e se quando ero signore dei traci condussi nella mia casa quale mia sposa con doni nuziali la loro sorella cleopatra così disse fineo è una profonda pietà prese ciascuno di loro ma più di tutti gli altri i due figli di borea si avvicinarono entrambi in lacrime e zete prendendo nelle sue mani la mano del vecchio afflitto gli disse misero nessuno degli uomini io credo è più infelice ma perché tante disgrazie ti si sono attaccate forse per una sciagurata imprudenza forse per una sciagurata imprudenza hai offeso gli idee con la tua arte profetica perciò sono tanto adirati a noi che vogliamo aiutarti si turba dentro la mente se davvero il dio ha riservato noi due questo compito poiché ben chiare sono agli uomini le collere degli immortali e dunque non cacceremo le arpie quando verranno sebbene lo desideriamo prima che tu ci abbia giurato che non verremmo per questa azione in odio agli dei così disse e il vecchio spalancò gli occhi vuoti e li alzò verso di lui e risposi con queste parole figlio mio taci ti prego e non ti mettere in mente questo pensiero mi sia testimone il figlio di leto che mi insegnò benevolo l'arte profetica e il maledetto destino che ho avuto in sorte e la cieca nube che sta sui miei occhi e gli dei di sotterra che non mi siano benigni neppure in morte semento giuro che dal vostro soccorso non verrà ira divina prestato il giuramento erano entrambi ansiosi di porgergli aiuto subito i più giovani prepararono il pranzo per fineo l'ultima preda offerta alle arpie e i boreadi si misero accanto per respingere con la spada l'assalto di quelle il vecchio aveva appena toccato il suo cibo che subito come acerbe tempeste come baleni balzarono dalle nubi improvvise e con un immenso stridore si avventarono al cibo smaniose a quella vista gli eroi diedero un grido ma quelle sempre stridendo e divorata ogni cosa volarono oltre il mare lontano e là non rimase altro che un insopportabile odore i due figli di borea brandirono allora le spade e le inseguirono zeus diede loro una forza instancabile senza di lui non avrebbero mai potuto seguirle perché volavano rapide come tempeste di zefiro sempre quando andavano verso fineo o ne ripartivano come quando sui monti i cani esperti di caccia corrono sulle piste delle capre o dei cerbiatti e gli si spingono addosso e in cima alle macelle serrano i denti a vuoto così serrando da presso le arpie i figli di borea cercavano in vano protendendo le dita di prenderle quando poi le raggiunsero lontano alle isole erranti certo le avrebbero fatte a pezzi contro il volere divino se non li avesse visti la rapida iride e non fosse discesa dal cielo e non li avesse fermati ammonendoli non vi è lecito figli di borea colpire con la vostra spada le arpie che sono i cani del potentissimo zeus ma io vi giuro che non torneranno da fineo così disse e giurò sull'acqua del fiume stige che è per gli dai tutti la più venerata e tremenda che mai più sarebbero andate alla casa del figlio di agenore questo era stabilito dal fato ed essi cedettero al giuramento e si volsero indietro veloci per ritornare alla nave perciò gli uomini diedero il nome di strofadi isole della svolta a quelle che prima chiamavano erranti le arpie ed iride si separarono le une verso il profondo di una caverna di creta iride in alto all'olimpo la portavano in volo le velocissime ali intanto gli eroi lavarono con ogni cura la sudicia pelle del vecchio e sacrificarono pecore scelte dal bottino dei bebrici apprestata una cena copiosa nella sua casa sedettero a banchetto e fineo mangiava con loro avidamente e con un piacere grandissimo come in un sogno poi quando furono sazi di cibo e di bevande vegliarono tutta la notte aspettando i figli di borea e fineo sedeva in mezzo ad essi accanto al focolare e li informava sul termine sul compiersi del loro viaggio ascoltatemi non è lecito a voi sapere ogni cosa precisamente ma quanto agli dei piace rendervi noto non vi terrò nascosto un'altra volta ho peccato svelando per mia stoltezza in ordine sino alla fine il disegno di Zeus lui così vuole che si diano agli uomini oracoli monchi perché abbiamo sempre bisogno del soccorso divino subito appena mi avete lasciato vedrete là dove il mare si stringe le rupi si implegadi che mai nessuno vi dico ha attraversato uscendone in colume perché non sono saldamente fissate alle loro radici ma spesso si scontrano l'una con l'altra e si riuniscono insieme e sopra si leva la piena dell'acqua e ribolle e intorno la sprolido terribilmente risuona ascoltate il mio consiglio se veramente compite il vostro viaggio con saggezza e rispettando gli dei non vogliate cercare voi stessi la morte procedendo dritti stoltamente seguendo la vostra età giovanile fate da prima la prova con un'acquolomba in auspicio e speditela davanti alla nave se passa le rupi e arriva al ponto sana e salva con le sue ali non trattenetevi più nel vostro cammino prendete in mano i remi e navigate lo stretto allora la vostra salvezza sarà nelle braccia più che nelle preghiere perciò lasciate da parte ogni altra cosa e faticate con tutte le forze prima però non vi vieto di pregargli dei ma se invece volando in mezzo alle rocce l'uccello perisce tornate indietro sarà molto meglio cedere agli immortali non sfuggirete alla morte tra queste rocce neanche se argo fosse fatta di ferro guai a voi non osate andare oltre i miei vaticini neanche se mi credete tre volte più odioso ai celesti di quel che sono o anche più non osate passare se l'augurio che vi ho indicato non fosse propizio riguardo a questo sarà ciò che deve essere ma se sfuggirete all'urto delle rocce ed entrate illesi nel ponto navigate allora tenendo alla destra la terra di tinia ma dovete guardarvi dai frangenti fino a quando dopo aver doppiato il rapido reba e il capo nero lungerete al porto dell'isola tinia di là non molto lontano vi dirigerete alla terra dei mari andini che si trova di fronte qui è la discesa all'ade e qui si tende l'alta scogliera a cherusia il vorticoso a cheronte la taglia in profondo e riversa le sue acque da un'enorme voragine là non lontano costeggerete le molte colline dei paflagoni quelli su cui regnava un tempo pelope e nezio e dal suo sangue si vantano ad essere discesi e c'è un promontorio rivolto all'orsa maggiore scosceso da ogni parte e chiamano capo carambi e su di lui si dividono le tempeste di borea perché tocca il cielo proteso sul mare aperto quando è passato questo si stende la grande spiaggia all'estremo della grande spiaggia presso una punta si gettano le acque impetuose dell'alis là vicino il più piccolo iride volge al mare i suoi vortici bianchi più avanti sporge dal continente il grande gomito e sfocia il termodonte in un golfo tranquillo posto al di sotto del capo di temiscira dopo avere attraversato una vasta pianura lì è la piana do ansia e là vicino le tre città delle amazzoni e poi il paese dei calibi i uomini più travagliati che lavorano un suolo durissimo ed aspro e ne estraggono il ferro accanto a loro stanno i tibareni ricchi di greggi oltre il capo geneteo sacro zeus protettore degli ospiti e dopo di loro i mossineci che là vicino nella piana boscosa ai piedi del monte costruiscono delle capanne nelle torri con tronchi di legno e delle solide torri che chiamano mossine e da quelle torri ricevono il nome quando li avrete passati approdate a un'isola nuda e con qualunque mezzo scacciate gli uccelli impudenti che in gran numero affollano l'isola vuota dove le due regine delle amazzoni o tra era ed antiope innalzarono un tempio di pietra in onore di ares quando muovevano guerra e qui dal mare crudele verrà a voi un beneficio che mi è proibito di dirvi ma io che vi sono amico dico solo fermatevi là perché commettere ancora lo stesso peccato con la mia profezia svelando punto per punto ogni cosa oltre l'isola oltre la terra che le sta di fronte sono i filiri oltre i filiri stanno i macroni e in seguito poi le immense tribù dei beccheri e poi nell'ordine vicino a questi stanno i sapiri e confinanti con i sapiri i bizzeri e al di là dei bizzeri gli stessi colchi guerrieri ma voi continuate la rotta finché sarete arrivati al recesso segreto del mare dove attraverserete la terra di cita scendendo dai monti amaranti lontano e dalla pianura di circe il fase impetuoso riversa dentro il mare le vaste correnti spinta la vostra nave sino alla foce del fiume allora vedrete le torri di età citeo e il bosco ombroso di ares dove sopra la cima di una quercia è disteso il vello ed un drago prodigio orrendo a vedersi lo veglia in ogni momento né giorno né notte il dolce sonno vince i suoi occhi spietati così disse e subito li colse il terrore a sentirlo a lungo rimasero colpiti senza parole poi finalmente parlò il figlio di esone angosciato dal vaticinio terribile vecchio tu ci hai informato sul compiersi del nostro viaggio e ci hai detto il segno che noi dovremo seguire per passare nel ponto attraverso le rupi tremende ma se fuggiti a quelle ci sarà per noi ritorno in terra di grecia questo da te io vorrei sopra ogni cosa sapere che fare come di nuovo percorrere tanto tratto di mare inesperto assieme ai compagni inesperti se è vero che è nella colchide si stende agli estremi confini di mare e di terra così disse e il vecchio fineo così gli rispose figlio mio appena sarai sfuggito alle terribili rupi abbi fiducia un dio guiderà il tuo viaggio per altra strada al ritorno da ea e verso ea avrai guide abbastanza cercate però amici miei l'inganno di cipride l'inganno di cipride che vi venga in aiuto in lei sta la gloria delle vostre fatiche ed ora a me non chiedete nulla più oltre così disse il figlio di agenore accanto a lui i due boreadi venuti dal cielo posarono a terra i rapidi piedi gli eroi si alzarono quando li videro giungere e sete ancora anzi mando forte per la fatica di sei compagni ansiosi quanto lontano cacciarono le arpie e come iride aveva impedito di ucciderle e i giuramenti prestati dalla benevola dea e come quelle sprofondarono per lo spavento nell'enorme grotta del monte di teo i compagni furono lieti di queste notizie ma più di tutti fineo subito giasone gli si rivolse con grande affetto e gli parlò in questo modo un dio certamente fineo si è preso cura della tua misera sorte e ci ha portato qui da lontano perché i figli di borea ti prestassero aiuto e se ti volesse ridare anche la luce degli occhi sento che ne sarai lieto come tornando nella mia casa disse e il vecchio rispose a lui tristemente figlio di esone questo non si può avere non c'è più rimedio vuoti e consunti sono i miei occhi in cambio di questo il dio mi conceda presto la morte quando sarò morto allora avrò tutto il mio bene questi discorsi si scambiavano l'uno con l'altro poco dopo mentre parlavano apparve l'aurora attorno a fineo si raccolsero i vicini che erano soliti frequentarlo giorno per giorno e portargli sempre una parte dei loro cibi a tutti anche ai più umili il vecchio dava responsi accurati e molti coi suoi vaticini li aveva salvati dalla sciagura per questo venivano e gli portavano il cibo e con gli altri venne parebio che gli era più caro di tutti e con piacere parebio li vide nella sua casa da tanto tempo fineo aveva predetto che un giorno uno stuolo di eroi dalla grecia diretti alla terra di eeta sarebbero prodati alla terra tinia e per volere di i zeus avrebbero messo fine agli assalti dei mostri a tutti il vecchio diede il conforto di savie parole e gli congedava ma il solo parebio lo fece rimanere assieme agli eroi subito gli ordinò di cercare e portargli il più bel montone quando fu uscito disse ai naviganti riuniti queste cortesi parole amici non tutti gli uomini sono superbi non tutti scordano i benefici guardate quest'uomo che un tempo è venuto a cercarmi perché voleva conoscere il proprio destino quanto più lavorava quanto più s'affaticava sempre più lo tormentava la mancanza dei mezzi di vita cresceva giorno su giorno sempre più atroce e per le sue pene mai non c'era respiro ma pagava una dura pena per una colpa del padre costui trovandosi solo nei boschi a tagliare la legna disprezzò le preghiere di una ninfa madriade che gli chiese piangendo di non tagliare il tronco di quercia che era cresciuto con lei dove aveva trascorso la vita ma lui incurante recise l'albero nell'arroganza della sua giovinezza ma poi la ninfa mandò una sciagura incurabile a lui e ai suoi figli io quando venne da me conobbi la colpa e gli ordinai di costruire un altare alla ninfa di tinia e compiervi dei sacrifici per espiazione chiedendo di scampare alla sorte paterna e da quando è sfuggito al castigo divino non si è scordato di me non mi ha trascurato che anzi a fatica lo mando alla sua casa tanto desidera porse il mio aiuto nella disgrazia così disse il figlio di agenore e subito giunse parebio portando dal grezzo e due bestie gesone si levò in piedi al cenno del vecchio e con lui i due figli di borea subito invocarono il dio profetico a pollo sacrificando sul focolare verso il tramonto del giorno i compagni più giovani prepararono un pranzo copioso e dopo avere mangiato si coricarono quali accanto alle gomene quali riuniti dentro la casa di fineo alla mattina si levarono i venti estesi che soffiavano ugualmente per tutta la terra mandati da zeus per questa ragione si dice che al tempo degli uomini antichi una donna di nome cirene pascolava le greggi presso la palude penea e aveva carissima la sua verginità ed il letto non toccato dal maschio ma la rapì a pollo mentre badava alle pecore sulla riva del fiume la portò via lontano dalla tessaglia e la diede alle ninfe che hanno la loro sede in libia presso il mirtosio e qui partoria da pollo aristeo che i ricchi tessali chiamano agreo e nomio cioè cacciatore e pastore e per amore del dio rese anche lei una ninfa cacciatrice immortale il figlio ancora infante lo diede a crescere nella grotta del centauro chirone cresciuto le muse gli diedero moglie e gli insegnarono la medicina e l'arte dei vaticini e gli assegnarono da custodire tutte le grezzi che pascolavano nella pianura a tamazia di ftia e alle falde dell'otri presso il corso del sacro apidano e poi quando sirio dal cielo bruciò le isole del re minosse e il tempo passava e non si trovava rimedio allora per consiglio del dio signore dei dardi chiamarono aristeo a difenderli contro il flagello e gli obbediendo al comando del padre abbandonò la ftiotide e prese dimora in ceo raccogliendovi il popolo dei parrasi che trae origine dal sangue di licaone costruì un grande altare in onore di zeus dio delle piogge e celebrò sopra i monti i riti per sirio e per i figli di crono perciò mandati da zeus i venti estesi rinfrescano per 40 giorni la terra e a ceo i sacerdoti ancora oggi compiono dei sacrifici prima che sorga la costellazione del cane così si narra gli eroi dovettero restare fermi in quel luogo e ogni giorno i tini mandavano loro grati per fineo innumerevoli doni ospitali poi costruito sulla riva di fronte un altare ai dodici dei e collocate le offerte salirono sulla nave e si misero ai remi ma non si scordarono di portare con loro una colomba trepida per il terrore eufemo la portava tenendola in mano sciolsero da terra le doppie gomene e non sfuggì ad atena la loro partenza la dea subito in fretta posò i piedi sopra una nuvola lieve che pure portava il suo peso in un istante si slanciò verso il ponto a soccorrere i rematori come chi verrando in esilio dalla sua patria così spesso vaghiamo noi uomini afflitti e nessuna terra è troppo lontana tutte le strade si aprono al nostro sguardo pensa alla sua casa e gli si mostrano insieme le vie del mare e di terra e ora l'una ora l'altra con gli occhi e con l'acuto pensiero non meno veloce si slanciò la figlia di zeus e mise piede sulla costa tineide del punto arrivati gli eroi allo stretto tortuoso passaggio chiuso da entrambe le parti dalle rupi scoscese il vortice della corrente colpiva di sotto la nave nel suo cammino e andavano molto avanti ma con paura perché già colpiva gli orecchi il fragore tremendo delle rupi che urtavano l'una sull'altra e urlava la spiaggia battuta dal mare allora si alzò in piedi eufemo tenendo la colomba nella sua mano salì sulla prora gli altri regolarono per comando di tifi figlio di agnia la voga per passare poi tra le rupi fidando nel loro vigore d'improvviso le videro superato l'ultimo braccio di terra le videro aprirsi e i cuori furono sconvolti eufemo lanciò la colomba e tutti alzarono il capo a guardarla quando volò tra le rocce e quelle di nuovo urtarono insieme l'una sull'altra con grande fragore si levò in alto un'ondata ribollente come una nuvola il mare diede un urlo feroce e rimbombò il grande etere tutto all'intorno risuonarono le grotte cave sotto gli scogli scoscesi quando le invasero i flutti si riversò sulla riva in alto la bianca schiuma delle onde ruggenti la corrente volgeva in tondo la nave le rocce tagliarono le ultime punte alla coda della colomba ma essa volò illesa e i rematori diedero un grido allora tifi ordinò di remare con forza di nuovo le rocce si stavano aprendo ma remando tremavano finché il riflusso dell'onda li lasciò tra le rupi e tutti furono presi da atroce terrore sopra le loro teste era la morte e non conosce rimedi già da una parte dall'altra si apriva vastissimo il ponto ed improvviso si levò su di loro una grande ondata ricurva come una rupesco scesa quando la videro chinarono il capo perché pareva volesse invadere argo e sommergerla tutta ma più rapido tifi alleggerì la nave che la voga rendeva pesante e la massa dell'acqua arrotolò al di sotto della carena però dalla poppa d'acqua tirò indietro la nave lontano dalle rupi ed argo si mosse in alto sulla cresta dell'onde andando da tutti i compagni eufemo urlava che rimassero con ogni forza e quelli frangevano l'acqua con grandi grida ma quanto la nave avanzava sotto la spinta dei rematori due volte più si muoveva all'indietro si piegavano i remi come archi ricurvi sotto l'enorme sforzo degli uomini poi piombò un'onda opposta e argo corse in avanti come un cilindro correportato dall'onda potente sopra il mare profondo la fermò proprio in mezzo alle rupi il vortice della corrente le rupi gemevano scosse e le tavole d'argo erano incatenate allora atena si appoggiò ad una solida roccia con la sinistra e con la destra spinse la nave dritta attraverso il passaggio essa si levò alta come il volo d'una saetta tuttavia le rupi scontrandosi l'una sull'altra tagliarono via la punta degli ornamenti della plustre atena di nuovo balzò sull'olimpo quando furono in salvo mentre le rocce serrandosi insieme misero salde radici questo era nei fatti divini quando un uomo le avesse viste e attraversate sopra una nave gli eroi respirarono dopo il terrore gelido guardando il cielo e la sconfinata distesa del mare si sentivano scampati al regno dei morti tifi il timoniere parlò allora per primo grazie alla nostra nave credo che ormai siamo in salvo ma nessuno si deve questo quanto ad atena che nella nave ha sperato una forza divina quando argo ne ha inchiodato le tavole e non può essere vinta figlio di esone non devi più temere il comando del tuo sovrano poiché la dea ci ha concesso di sfuggire alle rupi le prove che ancora ci aspettano avranno buon esito così ha profetizzato il figlio di agenone fineo disse e intanto guidava la nave in alto mare di fronte alla costa bitinia ma gli rispose giasone con cortesi parole tifi perché consolare con questi discorsi il mio affanno ho sbagliato ho commesso un errore sciagurato e senza rimedio avrei dovuto sottrarmi al comando di pelia e rifiutare subito il viaggio anche a costo di morire anche a costo di essere orribilmente sbranato ora soccombo a un'angoscia suprema a intollerabili affanni e odio navigare le gelide strade del mare ma anche toccare la terra perché dappertutto vi sono uomini ostili sempre alla fine del giorno veglio notti di gemiti da quando per causa mia vi siete raccolti all'inizio meditando sopra ogni cosa e facilmente tu parli perché devi darti pensiero solo della tua vita io nemmeno un momento temo per me ma per l'uno o l'altro di voi per te e per gli altri compagni se non riuscirò a riportarvi in columi in grecia così disse mettendo alla prova i compagni ed essi rumoreggiarono con parole ardite la sonne si rallegrò nel suo cuore del conforto che gli veniva da loro e in tutta franchezza rispose amici miei si accresce il mio coraggio nel vostro valore anche se dovessi andare attraverso gli abissi dell'ade non avrei più paura con voi così saldi in mezzo ai pericoli ma ora che abbiamo passato le simplegadi penso che non ci saranno altre paure come queste in futuro se noi continuiamo il nostro viaggio seguendo fedelmente i consigli di fineo così parlò e smessi i discorsi ripresero l'incessante fatica dei remi ben presto passarono le rapide acque del fiume reba e lo scoglio di colonne e non molto dopo raggiunsero il capo nero e poi le foci del fillide là dove un tempo dipsaco accolse presso di sé il figlio del re atamante che sulla riete fuggiva dalla città di orcomeno era dipsaco il figlio di una ninfa dei prati non amava la violenza e abitava insieme alla madre presso le acque paterne pascendo sereno le greggi videro il suo santuario e le vaste rive del fiume e la piana e le profonde corrente del calpe e passarono oltre remando di giorno e poi ancora durante la notte senza vento infaticabili e come solcando un terreno ubertoso s'affaticano i buoi e un copioso sudore sgorga dai fianchi e dal collo si volgono gli occhi obliqui di sotto al gioco e il respiro arido esce giamendo dalle bocche e puntano i piedi sulla terra e lavorano per l'intera giornata simili a loro gli eroi spingevano i remi sul mare quando non c'è ancora la luce divina ma non è più tutto scuro è un lieve chiarore percorre la terra gli uomini appena svegli lo chiamano crepuscolo allora sfatti dalla fatica entrarono al porto dell'isola tiniade deserta e sbarcarono a terra e ad essi apparve il figlio di leto che dall'alicia andava lontano verso l'infinita moltitudine degli ipo erborei mentre avanzava s'agitavano sulle sue guance come grappoli d'uva e riccioli d'oro nella sinistra portava l'arco d'argento sulle spalle pendeva la faretra l'isola tutta si scuoteva sotto i suoi piedi e i flutti inondavano il suolo alla sua vista gli eroi furono presi da sgomento e stupore nessuno osava guardare di fronte negli occhi belli del dio stavano fermi col capo chino a terra e appollo trascorse verso il mare lontano per l'aria solo più tardi orfeo si rivolse agli eroi e disse queste parole orsù consacriamo quest'isola a febo dio del mattino poiché nel mattino il dio è apparso a tutti noi passando e sacrifichiamogli ciò che possiamo edificando un altare sulla riva se poi ci concede di ritornare sani e salvi in tessaglia allora gli offriremo cosce di capre cornute ma vi prego di rendergli onore così col grasso e le libagioni ma tuo signore si ci propizio e ci sia propizia la tua apparizione così disse e alcuni subito con delle pietre innalzarono l'altare altri girarono per tutta l'isola in cerca di cerbiatti e capre selvatiche che spesso stanno nel folto delle foreste il figlio di leto dia di loro una buona caccia e secondo il rito bruciarono sull'altare due cosce a volte di grasso invocando a pollo col nome di dio del mattino sulle vittime ardenti intrecciarono un'ampia danza celebrando il bel febo ie peana peana e in mezzo ad essi orfeo il figlio di eagro iniziò sulla cetra bistonia un canto amoroso come una volta il dio sotto il gioco pietroso del parnaso uccise con le sue frecce il mostruoso pitone era ancora un giovane imberbe fiorente ancora di riccioli perdona signore le tue chiome restarono sempre intonse intatte come giusto è letto soltanto la figlia di ceo le accarezza con le sue mani e più volte lo incitavano le figlie di plisto le ninfe corice gridando ie ie e da questo loro gridare a origine il bel ritornello che si intona in onore di febo quando l'ebbero celebrato con il canto e la danza giurarono con le pie li bagioni e toccando le vittime di darsi l'un con l'altro in amicizia un vicendevole aiuto resta ancora oggi il tempio che costruirono alla benigna concordia la dea alla quale si deve la gloria più grande all'alba del terzo giorno col soffio possente di zefiro lasciarono l'isola impervia e videro e costeggiarono di fronte la foce del fiume sangario e la fertile terra dei mari andini e il corso di lico e il lago antemo iside procedendo vibravano al vento le cime e gli attrezzi di argo al mattino era caduto il vento durante la notte giunsero lietamente al porto del capo a cherusio che si leva con rupi impervie e guarda al mare bitinico sotto vi sono piantati scogli lisci battuti dal mare e tutto intorno terribilmente risuona l'onda che li avviluppa in alto sopra la cima sono dei platani amplissimi dal capo declina in basso verso l'interno una valle profonda qui è la grotta dell'ade completamente avvolta da rocce e foreste ne spira un soffio gelido che senza tregua esala dal profondo angoscioso recesso e tutto intorno crea la candida brina che scioglie soltanto il sole di mezzogiorno ma il silenzio possiede questo terribile capo geme al rimbombo del mare alle foglie mosse agitate dai venti della caverna qui è anche il corso del fiume a cheronte che attraverso il capo si nel mare orientale una profonda voragine lo inabissa dall'alto tra i posteri i megaresi nisei vi attribuirono il nome di sonaute salvatore dei naviganti per chiedere loro salvezza quando accengendosi a stabilirsi nella terra dei mariandini furono presi nel pieno di una furiosa tempesta passarono con la nave attraverso il capo a cherusio e vi sbarcarono il vento era appena caduto non restò a lungo nascosto alico il re del paese e ai mariandini che erano approdati gli eroi gli uccisori di amico come già tutti sapevano prima per fama per questa ragione li accolsero in amicizia e come a un dio diedero il benvenuto a polluce raccolti da tutte le parti perché da moltissimo tempo erano in guerra contro i superbi bebrici andati in città tutti insieme passarono il giorno come amici dentro le case di lico e qui banchettarono e godettero insieme il piacere dei mutui soccorsi il figlio di esone gli disse la stirpe e il nome di tutti i suoi compagni gli disse i comandi di pelia e come li avevano accolti le donne di lemno e ciò era accaduto a cizzico presso i dolioni e come giunti al cio nella misia contro il volere lasciarono l'eroe eracle e i vaticini di glauco come avevano ucciso i bebrici e amico le profezie di fineo e le sue sventure come sfuggirono alle rupi cianee e incontrarono a pollo nell'isola e mentre narrava gli eventi nel loro ordine lico ascoltava l'animo in preda all'incanto ma nell'udire dell'abbandono di eracle il dolore lo prese e disse queste parole amici miei quale uomo avete perduto quale soccorso nel vostro viaggio per andare a età io lo conosco bene l'ho visto in questa terra in casa di mio padre d'asilo quando attraverso la terra d'asia giunse qui a piedi andava a prendere il cinto della guerriera ippolita e mi trovò che la lanugine appena mi copriva le guance e qui nei giochi per mio fratello priola ucciso dai misi che il nostro popolo da quel tempo piange con tristissimi canti careggiò e vinse nel pugilato il fortissimo tizia che per bellezza e forza spiccava tra tutti i giovani e gli fece cadere a terra i denti poi oltre ai misi rese suddite di mio padre le genti dei migdoni che abitano nelle campagne vicine e vinse le tribù dei bitini fino al corso del fiume reba e allo scoglio colonio e gli cedettero anche i paflagoni nipoti di pelope quanti ne circondano le acque nere del billo ma oggi in assenza di eracle i bebrici e l'insolenza di amico mi hanno tolto moltissime terre e posto i confini sulle marcite del lipio ma per opera vostra sono stati puniti e io vi dico che non fu senza il volere divino che tu figlio di tindaro portasti guerra ai bebrici quando uccidesti quell'uomo così per questa ragione per quanto io potrò mostrarvi la mia gratitudine lo farò volentieri è questo il dovere dei deboli verso i più forti che hanno portato soccorso per primi e manderò con voi compagno del vostro viaggio mio figlio d'ascilo con lui troverete agenti ospitali navigando finché giungerete alla foce del termodonte inoltre farò costruire per i tindaridi un tempio in alto sulla cima del promontorio a cherusio e da lontano sul mare che da lontano sul mare lo vedano i naviganti tutti e li onorino e voglio in più dedicare ad essi come a dei fertili campi di terra atta ad essere arata di fronte alla nostra città così passarono il giorno in allegria a banchettare all'alba scesero in tutta fretta alla nave e lico stesso li accompagnava offrendo moltissimi doni e fece andare da casa assieme a loro suo figlio qui la sorte segnata colpì il figlio di abante idmone esperto di vaticini ma non lo salvarono i vaticini perché il destino lo condusse a perire giaceva in una palude del fiume ricco di canne e rinfrescava nell'acqua i fianchi e il vastissimo ventre un cinghiale dalle zanne bianche un mostro che terrorizzava anche le ninfe dell'acqua nessuno sapeva che c'era viveva da solo nella vasta palude il figlio di abante camminava sopra un rialto del fiume fangoso la belva balzò dal canneto improvvisa e lo azzannò sulla coscia violentemente e recise nel mezzo i nervi insieme con l'osso lanciò un grido acutissimo e cadde per terra gridarono i compagni affollandosi intorno a lui e subito peleò scagliò l'asta contro la fiera che fuggiva nella palude ma si voltò e gli balzò addosso allora ida lo colpì e il cinghiale cadde urlando sulla rapida lancia lo lasciarono a terra nel punto dove era caduto e tristemente portarono idmone alla nave agonizzante spirò tra le braccia dei suoi compagni non poterono dunque pensare a riprendere il viaggio e restarono afflitti a rendere al morto gli onori dovuti lo piansero tre giorni interi e poi all'indomani lo seppellirono con grande pompa al rito prese parte il popolo col suo sovrano lico sgozzarono innumerevoli pecore il sacrificio che spetta secondo l'uso ai defunti fu poi innalzato in quella terra il sepolcro all'eroe e sopravvive un segno alla vista dei posteri un grullo d'olio selvaggio quali si usano per parare le navi fiorente di fronde poco sotto la vetta del capo a cherusio e se guidato dalle muse devo dirlo con piena franchezza febo ordinò chiaramente ai beoti e ai nisei di onorare idmone come loro patrono e attorno all'olivo selvaggio fondare la loro città ma quelli al posto del pio nipote di eolo onorano invece ancora oggi agamestore chi tra loro morì perché un'altra tomba gli eroi dovettero dare a un loro compagno infatti due sepolcri ancora oggi si vedono si dice che morì allora tifi figlio di agnia non era nel suo destino portare più oltre la nave ma un rapido morbo lo addormentò lontano dalla sua patria nel mentre che i suoi compagni rendevano onore al morto figlio di abante dopo la prima sventura fu insopportabile ad essi un nuovo lutto quando anche tifi l'ebbero presto sepolto caddero in preda all'angoscia di fronte al mare avvolti nei loro mantelli non pensavano più né a mangiare né a bere il loro cuore era battuto dalla pena il ritorno era molto lontano dalle loro speranze e ancora più tempo sarebbero stati fermati dalla tristezza sera non infondeva un enorme coraggio ad anceo nato presso le acque del fiume imbrasio da asti palea e da posidone ed abilissimo nel guidare le navi egli si rivolse a peleo con grande slancio figlio di eaco come si può trascurare la nostra impresa e restare tanto in terra straniera non perché fossi un prode guerriero giasone mi hai portato con te da partenia alla conquista del vello ma perché esperto pilota non c'è dunque nessun timore per la guida di argo e del resto ci sono altri uomini abili così che chiunque mettiamo a poppa non ci farà correre rischi nel navigare ma tu dillo presto e incoraggia i compagni che da uomini prodi ricordino la nostra impresa così disse e il cuore di peleo si riempiva di gioia e subito dopo parlò in mezzo ai compagni sciagurati perché continuare così un inutile lutto quei due sono morti per il destino che ebbero in sorte ma altri piloti ci sono pure tra noi e molti perciò non tardiamo a provarli svegliatevi all'opera mettiamo da parte il dolore ma il figlio di esone in preda all'angoscia così gli rispose figlio di eaco dove sarebbero questi piloti quelli che prima vantavano come uomini esperti ecco che più di me sono abbattuti ed afflitti perciò prevedo per noi una sorte infelice come quella dei due che sono morti se non potremmo neppure giungere alla città del terribile eeta né più tornare alla terra di grecia che oltre le rupi si stenderà sopra di noi un destino inglorioso invecchiando in questa terra senza uno scopo così disse ma anceo si offerse con grandissimo slancio di condurre la rapida nave lo spingeva il volere divino dopo di lui si alzarono ergino nauplio ed eufemo desiderosi di mettersi alla guida di argo ma li trattennero i compagni la più parte di loro scelse anceo per pilota si imbarcarono all'alba del dodicesimo giorno alle loro spalle soffiava un forte vento di zefiro rapidamente oltrepassarono a remi il fiume a cheronte poi fidando nel vento vissarono le vele e nel tempo sereno percorsero un largo tratto a vele spiegate presto giunsero presso la foce del fiume callicoro dove si dice che dioniso figlio di zeus celebrò le sue feste quando lasciate le genti dell'india andava a stabilirsi in tebe e là istituì le danze davanti alla grotta dove passò notti sacre senza sorriso e da quel tempo i vicini chiamano il fiume callicoro cioè dalle splendide danze e dalla grotta hanno dato il nome di aulio rifugio poi viderò il sepolcro di stenelo figlio di attore che ritornando dall'aspra guerra contro le amazzoni dove era stato compagno di eracle morì sulle rive del mare per ferita di un dardo che in quelle terre l'aveva colpito per un poco non passarono avanti perché persefone stessa rimandò l'anima lacrimosa del figlio di attore e supplicava di poter vedere per un momento i suoi pari salito in cima al sepolcro osservava la nave vestito come quando partì per la guerra attorno al suo capo splendeva l'elmo coi quattro cimieri e la cresta di porpora poi scese di nuovo nel buio oscuro a quella vista gli eroi stupirono e il figlio di ampico mopso il profeta gli esortò a sbarcare a propiziarsi con li bagioni l'eroe raccolsero presto la vela e gettarono a terra le gomene sbarcati resero onore alla tomba di stenero fecero li bagioni e sacrificarono carni di pecora e oltre alle li bagioni innalzarono ivi un altare ad apollo che tiene sotto la sua protezione le navi e bruciarono carni e orfeo vi consacrò la sua lira da ciò viene il nome di lira che ha ancora oggi quel luogo il vento soffiava forte e si imbarcarono presto e spiegata la vela l'attesero con due scotte argo avanzava rapida come in alto nel cielo lo sperviero avanza veloce con ali aperte nel vento e senza un movimento le tiene ferme nel cielo puro gli eroi costeggiarono le correnti del fiume partenio che dolcemente scende nel mare e dove la figlia di leto quando torna dalla caccia per ascendere al cielo rinfresca il suo corpo nelle amabili acque la notte seguente proseguirono senza sosta il loro cammino passarono sesamo e gli scoscesi eritini crobialo cromma e la boscosa citoro ai primi raggi del sole doppiarono il capo carambi e costeggiarono a forza di remi la grande spiaggia per tutto il giorno e tutta intera la notte sbarcarono poi nella terra da siria là dove sinape figlia di asopo fu collocata un giorno da zeus e zeus ingannato dalle sue stesse promesse le diede in dono di restare vergine e dio bramava ad unirsi con lei e le promise di darle qualunque cosa desiderava in suo cuore ed essa con grande scaltrezza gli chiese la verginità la stessa astuzia usò con appollo che pure voleva il suo amore e poi con il fiume alis così nessuno dei maschi la possedette mai tra le sue braccia amorose la abitavano i figli dell'illustre deimaco di tricca dei leonte autolico e floggio da chi avevano lasciato eracle e quando videro arrivare gli eroi andarono loro incontro e si fecero apertamente conoscere poiché non volevano restare là imbarcarono appena soffiò il vento di argeste e insieme con loro portati dal soffio veloce lasciarono il fiume alis e il vicino corso dell'iride e le terre fluviali da siria in quel giorno stesso doppiarono da lontano il promontorio portuoso delle amazzoni dove un tempo eracle tese un agguato alla figlia di ares che si era spinta troppo in avanti melanibbe allora ippolita per riscatto della sorella gli diede la sua cintura tutta splendidamente cesellata e l'eroe la rimandò indietro in colume in questo golfo gli eroi approdarono presso la foce del termodonte il mare si gonfiava minaccioso sul loro cammino nessun fiume è simile a questo nessuno diffonde sul suolo da sé tante correnti l'una divisa dall'altra chi le contasse quattro sole ne mancherebbero per fare cento ma una soltanto è la fonte che scende al piano degli altissimi monti che si chiamano a quanto si dice monti amazzoni ma di là si disperde trovando di fronte una terra montuosa per questa ragione si apre via oblique da tutte le parti là dove incontra un pendio vicino o lontano moltissimi di questi corsi non si sa dove vanno a finire ma il fiume con pochi suoi bracci rovescia vistosamente le sue acque nel mare in ospitale proprio sotto la curva del promontorio e induciando in quel luogo sarebbero scesi a battaglia contro le amazzoni e sarebbe stata battaglia cruenta non erano miti le amazzoni che abitavano la pianura ad oansia non rispettavano le leggi della giustizia ma ad essa erano care soltanto la violenza e i lavori di ares di lui erano figlie e della ninfa armonia che si unì al dio nel profondo del bosco di acmone e gli partorì le fanciulle che amavano sopra ogni cosa la guerra se per volere di zeus non fosse tornato il soffio di agreste e spinti dal vento lasciarono il promontorio ricurvo dove si stavano armando le amazzoni di temiscira infatti non stanno tutte insieme in una città ma disperse per il paese e divise in tribù da una parte queste che avevano ippolita come loro regina da un'altra parte le licastie e da un'altra parte ancora le arcierie e cadesie il giorno dopo e la notte seguente costeggiarono il paese dei calibri sono uomini che non si curano di arare coi buoi non coltivano i dolci frutti degli orti non portano al pascolo le bestie sui prati bagnati dalla rugiada ma aprono il duro terreno che produce ferro e vendono il ferro e ne traggono i mezzi di vita non sorge per loro un'alba senza fatica e sopportano il duro lavoro in mezzo al fumo e alla fuligine dopo di loro doppiarono il capo geneteo e passarono al largo della terra dei tibareni qui quando le donne partoriscono figlia e mariti sono essi mariti che si mettono a letto e che gemono con il capo bendato e le donne provvedono al cibo per loro e preparano i bagni rituali del parto passarono poi di fronte al monte sacro alla terra dove i mossineci abitano sulle falde dei monti le torri chiamate mossine dalle quali prendono il nome le loro leggi e le usanze sono diverse da tutte le altre tutto ciò che è costume fare all'aperto ed in pubblico e nelle piazze loro lo fanno in casa in segreto e ciò che noi siamo soliti compiere in casa essi lo fanno senza biasimo in mezzo alla strada non hanno neppure vergogna di fare l'amore davanti a tutti come maiali al pascolo e senza riguardo per chi si trova presente si accoppiano in libera unione alle donne per terra il loro re sta seduto sulla mossina più alta e rende giustizia ai suoi moltissimi sudditi infelice se sbaglia nel giudizio lo chiudono per tutto un giorno digiuno e costeggiando questi paesi di fronte avevano l'isola del dio ares per tutto il giorno fendevano l'acqua coi remi già che la brezza leggera li aveva lasciati al crepuscolo ed ecco che videro in alto slanciarsi per aria un uccello un abitante dell'isola che agitando le ali sopra il cammino di argo scagliò su di essa una penna acuta piombò sulla spalla sinistra dell'illustre oileo ferito lasciò cadere il suo remo e gli altri stupirono a vedere il proiettile alato il compagno che gli stava accanto e ribote estrasse la freccia e fasciò la ferita sciogliendo dal fodero della sua spada la fascia che lo reggeva ma un altro uccello comparve in volo dopo il primo ecclizio figlio di eurito che già teneva teso l'arco ricurvo scagliò un dardo veloce e lo colpì cadde roteando presso la nave amfidamante figlio di aleo parlò così allora ai compagni è vicina all'isola di ares anche voi lo sapete vedendo gli uccelli e non basteranno le frecce credo a farci sbarcare pensiamo dunque a qualche altro espediente se ricordate fineo e volete approdare come ci ha detto neppure eracle quando venne in arcadia ebbe forza bastante a scazzare con l'arco gli uccelli del largo steam falide l'ho visto con i miei occhi però tenendo in mano e agitando sopra un'altura uno strumento di bronzo produsse tanto rumore che quelli impauriti fuggirono via con altissime strida perciò anche noi pensiamo qualcosa di simile e voglio dirvi anzi quello che ho già pensato mettiamoci in testa gli elmi con alto cimiero e poi metà di noi continui a remare e gli altri coprano la nave con le aste polite e con gli scudi e tutti insieme mandiamo un grido terribile saranno impauriti dallo strepito inusitato e dai cimieri ondeggianti e dalle lance levate in alto se poi giungeranno nell'isola allora levate un immenso rumore battendo gli scudi così disse e a tutti loro piacque l'astuto espediente misero in capo gli elmi di bronzo che mandavano trucci bagliori e sopra di essi ondeggiavano creste dal colore di porpora una metà di loro remava gli altri coprivano argo con le lance e gli scudi e come quando si copre una casa di tegole per ornamento e per riparo dall'acqua e tutte combaciano bene l'una con l'altra così proteggevano coi loro scudi la nave e qual è il grido che si leva da una schiera di uomini in marcia quando gli eserciti cozzano gli uni contro gli altri tale fu quello che si diffuse per l'aria al di sopra di argo non videro più nessun uccello ma quando arrivati nell'isola batterono sopra gli scudi a migliaia si levarono in volo terrorizzati come quando zeus manda dal cielo la grandine fitta sulle città e sulle case e gli abitanti al riparo siedono tranquillamente ascoltando il frastuono che batte sui tetti la tempesta non li ha sorpresi perché prima hanno consolidato le loro case così gli eroi gettavano fitte le penne fuggendo in alto sul mare verso le alture della terra di fronte ma quale fu il pensiero di fineo di fare approdare nell'isola l'illustre stuolo d'eroe e quale soccorso doveva venire in quel luogo alle loro speranze i figli di frisso andavano sopra una nave di colchide lasciata eea ed eeta citeo alla città di orcomeno a prendere le ricchezze immense del padre lui stesso morendo aveva loro ordinato di compiere il viaggio erano in quello stesso giorno nei pressi dell'isola e zeus fece soffiare il vento di borea segnando con le piogge l'umido arrivo di arturo durante il giorno scuoteva appena sui monti le foglie dei rami più alti ma nella notte piombò violento sul mare e urlando il suo soffio sollevò i flutti il cielo ravvolto tutto da una calicine nera non si vedevano gli astri brillare dietro le nuvole tutto intorno incombeva la tenebra oscura i figli di frisso bagnati temendo la morte venivano sballottati di qua e di là a caso dalle onde la violenza del vento strappò via le vele e spezzò in due la nave scossa dai flutti e qui tutte e quattro ispirati dal volere divino si appigliarono a un solo grossissimo legno uno dei tanti che pur bene inchiodati si erano spersi nel naufragio sul mare afflitti ormai vicini alla morte le onde e i soffii del vento riportarono all'isola e d'improvviso si scatenò una gran pioggia pioveva sul mare sull'isola e su tutta quanta la terra di fronte abitata dai mossineci tutti e quattro insieme col solido legno l'impeto dei marosi riscagliò sulla spiaggia dell'isola nella notte scura la grande pioggia di zeus cessò all'alba e ben presto si incontrarono gli uni con gli altri argo parlò per primo in nome di zeus che tutto vede chiunque voi siate vi supplichiamo di avere pietà e di darci soccorso nel nostro bisogno la tempesta tremenda si è abbattuta sul mare e ha disperso i legni della nostra infelicissima nave su cui siamo stati costretti a salire e a percorrere il mare perciò vi preghiamo se voleste darci dei panni per coprire le nostre membra e prendere cura di noi abbiate pietà di giovani come voi che si trovano nella sventura e per amore di zeus che protegge i supplici e gli ospiti rispettateci noi che siamo ospiti e supplici entrambi gli appartengono e anche sopra di noi sta il suo sguardo il figlio diesone gli fece savie domande pensando che si compissero i vaticini di fineo ben volentieri e subito vi daremo quanto chiedete ma ditemi la verità qual è il vostro paese quale bisogno vi spinge a viaggiare per mare qual è il vostro nome quale la vostra famiglia e argo gli rispose affranto dalla sciagura vi era già prima noto credo che frisso nipote di eolo venne ad eea dalla grecia frisso che giunse alla città di eeta cavalcando un montone che fu mutato da ermes in oro e il vello ancora oggi potete vederlo disteso sui folti rami di una quercia e in seguito come il montone stesso chiese che fosse fatto lo sacrificò a zeus il figlio di crono nella sua veste di protettore degli esuli eeta accolse frisso nella sua casa e gli diede in moglie la figlia calciope senza doni per la gioia dell'animo noi siamo figli di frisso e calciope frisso ora è morto assai vecchio nella casa di eeta e noi obbedendo all'ordine di nostro padre andiamo or comeno a prendere possesso dell'eredità di atamante se tieni a conoscere anche il nostro nome questo è titissoro e questo è frontis e questo melas a me chiamatemi con il nome di argo così disse e gli eroi si rallegrarono di questo incontro e si raccolsero intorno a loro stupiti il figlio di esone a sua volta rispose ad essi con queste parole voi mi siete parenti dal lato paterno voi che ci chiedete di avere pietà e di darvi soccorso erano infatti fratelli creteo e atamante e io sono il nipote di creteo e vado con questi compagni dalla grecia alla città di eeta ma di queste cose parleremo più tardi adesso prima vestitevi credo che per volere divino siete venuti da me bisognosi d'aiuto disse e diede loro dalla nave dei panni per coprirsi e poi tutti insieme andarono al tempio di ares a compiervi sacrifici di pecore con grande zelo le collocarono attorno all'altare fatto di pietre fuori del tempio che era privo di tetto dentro stava la pietra nera sacra sopra la quale tutte le amazzone un tempo erano solite pregare non era lecito ad esse far sacrificio su questo altare di pecore e buoi ma solo dei cavalli che avevano splendidamente nutriti quando ebbero finito il sacrificio e consumato il banchetto giasone allora parlò cominciando con queste parole veramente zeus vede ogni cosa e non gli sfuggiamo noi che siamo uomini pi e amanti della giustizia fu lui che strappò nostro padre alla morte orditagli dalla matrigna e gli diede lontano enormi ricchezze così anche voi il dio vi ha osservati incolumi dalla tremenda tempesta ma su questa nave è possibile andare dove si vuole ad eea o verso la ricca città del nobile orcomeno atena la fabbricata e con la scure ha tagliato le tavole dalla cima del pelio e insieme a lei argo invece la vostra le onde violente l'hanno dispersa ancora prima che arrivi alle rupi che nello stretto urtano senza posa l'una sull'altra ma ve ne prego anche voi dateci aiuto nel nostro progetto di riportare il vello d'oro in terra di grecia siateci guida c'è che quest'impresa io la compio in espiazione del sacrificio di frisso per cui zeus si stegnò con gli eolidi così li esortava ma quelli non ridirono il suo discorso pensavano che non avrebbero mai trovato eeta benigno se era nei loro disegni portare via il vello d'oro e così disse argo turbato all'idea dell'impresa che usavano amici miei non vi mancherà il nostro aiuto se ne avete bisogno per quanto è il nostro potere ma eeta è crudele violento e terribile perciò ho grande paura per le sorti del vostro viaggio si vanta ad essere figlio del sole intorno a lui sono le innumerevoli genti dei colchi e nel grido feroce e nella forza immensa si mette alla pari di ares ma anche senza contare eeta è ugualmente difficile prendere il vello tale è il serpente che lo custodisce insonne immortale idea di vita la terra sulle falde del caucaso sotto la rupe tifonia dove tifone percosso dal fulmine di zeus figlio di crono per aver elevato contro di lui le fortissime mani versò caldo sangue dal capo si dice e in questo stato giunse ai monti alla piana di nisa dove ancora oggi giace sommerso sotto le acque del lago serbonide così disse e il pallore invase le guance di molti all'udire di un simile compito ma subito peleo replicò arditamente e disse queste parole amico mio non cercare di spaventarci con i tuoi discorsi non ci manca il coraggio a tal punto da dichiararci sconfitti da età nella prova delle armi anche noi andiamo la esperti di guerra io credo è nati dal sangue degli immortali quindi se non ci consegnerà in amicizia il vello d'oro ho fiducia che non gli verranno a nulla le genti di colchide così a vicenda parlavano poi dopo aver cenato si addormentarono al mattino seguente spirava sul loro risveglio un soffio propizio hissarono quindi le vele che si gonfiarono al vento e ben presto abbandonarono l'isola di ares la notte dopo oltrepassarono l'isola di filiria qui crono figlio di urano nel tempo che aveva la signoria dell'olimpo e regnava sopra i titani e zeus nell'antro di creta cresceva tra i cureti dell'ida si unì a filira ingannando rea ma rea li sorprese insieme nel letto il dio balzò fuori e fuggì mutandosi in un cavallo dalla lunga criniera e l'oceanina filira lasciò per vergogna quei luoghi che andò sulle grandi montagne pelasghe e qui dall'amore col dio cangiante diede alla luce il mostruoso chirone in parte dio in parte cavallo di là costeggiarono la terra dei macroni e quelle vastissime dei becheri e quelle dei superbi sapiri e dopo i bizzeri procedevano sempre con grande slancio spinti da un vento leggero e già ai naviganti appariva il seno segreto del ponto e si levavano le cime impervie dei monti del caucaso là dove le membra inchiodate dalle catene di bronzo all'aspera roccia prometeo nutriva col proprio fegato l'aquila che sempre e sempre tornava a scagliarsi contro di lui la videro a sera volare vicino alle nuvole con uno stridore acuto alta sopra la nave eppure sconvolse tutte le vele col battito delle sue ali perché non aveva natura d'uccello del cielo ma muoveva le ali simili a remi politi poco dopo udirono anche la voce il lamento del titano straziato nel fegato dei suoi gemiti risuonava l'aria finché di nuovo dal monte videro l'aquila ingorda scagliarsi allo stesso bersaglio a notte guidati da argo giunsero al vasto corso dei fasi agli estremi confini del ponto qui subito ammainarono le vele e l'antenna e ne riposero nella custodia cava poi inclinarono l'albero e lo deposero anch'esso e percorsero a forza di remi la grande corrente del fiume le acque cedevano ovunque ribollendo sulla sinistra avevano i monti erti del caucaso e la città citeide di ea sulla destra la piana di ares e il bosco sacro del dio dove il serpente instancabile vigilava sul vello disteso sui rami di una quercia frondosa lo stesso figlio di esone versò una coppa d'oro nel fiume li bagioni suavi di puro vino in onore della terra e degli dai del paese e delle anime degli eroi morti e li pregava di concedergli aiuto benevolmente e di accogliere con fausto augurio l'approdo in quel momento anceo fece loro questo discorso siamo giunti alla terra di colchide alle correnti del fasi è giunto il momento che tra noi meditiamo se saggiare e eta con le maniere cortesi oppure trovare qualche altro mezzo efficace così disse e jasone seguendo il consiglio di argo fece portare la nave in un'ombrosa palude e la gettare le ancore vicino al luogo del loro arrivo dormirono ivi la notte non molto dopo l'aurora si levò sulle loro speranze